Ci è voluto un po' ma si è arrivato al dunque finalmente. Non sia un'azienda cinematografica per e propria se non sia l'attrezzatura adatta, quindi roba fatta apposta per il cinema. Arrivare qui è stato un traguardo per quanto mi riguarda, non con poca emozione perché qualsiasi camera io avessi comprato, tranne forse la primissima, non ero mai tanto emotivamente coinvolto nella situazione perché non mi ritenevo al 100% soddisfatto nonostante la media delle cose che mi servissero veniva soddisfatta. Se tu compri delle camere perché hai un budget ristretto che siano delle camere o reflex in questo caso perché a un certo punto è esploso il fenomeno reflex che ci permettevano di intercambiare gli obiettivi e avere un'ottima resa video quasi cinematografiche, ma in tutti i casi, essendo che era ovviamente sempre una situazione a scalini, non si otteneva mai l'effetto ovviamente desiderato di avere una bella immagine cinematografica. Ci si avvicinava a tentativi e si cercava di fare il possibile tramite appunto la lavorazione in fase di ripresa e poi in fase di post per migliorare il più possibile e mantenere pulita l'immagine. Quindi della mia primissima camera che è stata questa, non saprei neanche dirvi se ancora esiste questa marca, presa su internet quando ancora non c'era veramente niente dal punto di vista dei siti che esistono oggi, ma solamente qualche shop online dove vendevano appunto roba di tecnologia e con il budget veramente piccolo che avevamo, con questo abbiamo iniziato a fare le prime stronzate fra amici, però è stata la nostra prima telecamera full hd e ricordo che l'emozione era proprio il fatto che fosse full hd e cmos, quindi praticamente era stabilizzata, però da subito ci siamo accorti che non era sufficiente come camera perché non soddisfava una esigenza abbastanza importante che era l'audio, questa camera aveva un audio pessimo nonostante l'immagine era simpatica e lavorabile, per cui qualche mese barra anno dopo mi è stata regalata questa Panasonic. Con questa già abbiamo fatto un qualcosa di molto più simpatico, si parlava appunto già dei primi cortometraggi, delle prime webseries, abbiamo fatto John Danno con questa, quindi praticamente tutto ciò che è stato il nostro inizio, però ovviamente anche questa non era un gran che, era full hd, stabilizzata e tutto, però ovviamente non potevi emozionarti più di tanto, ti permetteva di fare quel tanto in più che è ok, per cui ciò che poi abbiamo fatto è stato evolverci in un altro frangente, che è stato appunto il mondo delle reflex e quindi la mia prima camera è stata la Canon 600D, con questa ci ho fatto la battaglia, è stata la mia camera per veramente tanto tempo principale, ci ho fatto di tutto, cortometraggi, videoclip musicali, un mare di cose, e praticamente ancora funziona, a parte adesso che in diretta con voi si è rotto questo pezzettino qua, però vabbè, per il resto se io decidessi di accenderla sicuro funziona, perché fino a qualche tempo fa funzionava. E' stata la mia prima camera sulla quale non soffrivo più il problema della luce bassa, quindi luce bassa e sgranatura, perché le Canon erano quelle che soprattutto in questo periodo sostenevano meglio gli alti ISO, e quindi praticamente passando a questa era una cosa allucinante, c'erano anche ovviamente quelle superiori, ma io non me le potevo permettere, tipo la 5D Mark II, che all'epoca spaccava. Il mio upgrade è stato la media fascia, che è appunto la Canon EOS 70D. Ovviamente Canon non mi paga, non mi ha mai pagato, queste me le sono sempre sudate, e con queste ci ho fatto altrettanta tantissima roba, tra cui, se mi ricordo bene, Nemo e Malamuri. Il mio primo film è stato fatto con questa, è una gemella di questa che era del mio allora direttore della fotografia. Già sopperiva a tantissimi problemi come l'autofocus, l'autofocus di questa era meraviglioso, quindi ci avvicinavamo sempre di più a una resa bella, come piaceva a noi, però ovviamente a gradini, a tentativi, a scaglioni si cercava di avere la migliore resa. C'era chi comprava le prime appunto 5D Mark III, Mark quello che volete, c'era chi prendeva le prime Sony, noi ci potevamo accontentare in quel periodo di queste, ma non accontentare, diciamo, dal punto di vista che stavamo male, perché effettivamente noi ci trovavamo benissimo, ci siamo sempre trovati bene in questa attrezzatura. Fino a quando, prima di fare 2000 passi, non abbiamo preso una coppia, quindi due, Canon 5D Mark IV, che ci hanno permesso di fare 2000 passi. E quindi con questa coppia di Canon 5D abbiamo creato un film e poi ovviamente tutti i successivi lavori dal 2020 fino ad oggi. Sono state delle ottime camere, finalmente abbiamo introdotto il C-Log, che era un'altra cosa che mancava e che a livello cinematografico ci dava quel quid in più, ma ancora non era abbastanza, perché non erano camere cinema. Nessuna di queste, neanche le 5D, sono camere cinema. Quindi praticamente noi avevamo sì un qualcosa. Con le 5D abbiamo introdotto il primo recorder esterno, che è stato il nostro Tascam, con i microfoni buoni della Rode, ma comunque non eravamo ancora a livello alto, secondo me. E lasciando stare i livelli altissimi delle ARRI e delle RED, le RED sono un po' più arrivabili delle ARRI, già per quanto mi riguarda adesso siamo a un livello alto. Tanto l'avete visto nel titolo, siamo arrivati a lei. Cioè guardate che differenza tra la Canon C70 e la prima 600D. Questa qua è la mia prima camera cinema. Finalmente adesso posso dire che ho una camera cinema. Ovviamente non è una questione di dirlo, ma poterci lavorare. Questa praticamente adempie a tutte le esigenze di un buon filmmaker che la usa appunto per fare cinema, non per fare matrimoni, non per fare videoclip, non per fare tutto il resto. Questa è principalmente stata creata per il cinema. È la fascia medio-bassa, ovviamente delle camere cinema Canon, però per quanto mi riguarda ha tutto, cioè tutto, tutto, tutto. Se parliamo appunto che registra in Canon Cinema RAW, oltre 16 stop di gamma dinamica, i filtri ND e chi più ne ha più ne metta, questa è veramente un'ottima camera. Non stiamo qui poi a sindacare su chi gli piace questo, su chi gli piace quello. Infatti questo è più un video raccoglitivo della storia che mi ha portato a questa camera, perché a me piace fare questo genere di video, magari alla gente non piace guardarli, però con questo genere di video io faccio sempre un resoconto delle cose. Quindi con questa camera ci catapultiamo effettivamente nel panorama cinematografico. Ha tutto, ha i controlli per l'audio già interno, se volessi collegare già un buon microfono qui o dei buoni microfoni qui, ha le cuffie, l'HDMI grande, ha Zebra, Picking, il bilanciamento del bianco dedicato, Piltri ND. Perché sempre Canon e perché non ho scelto altri marchi come i famosissimi Blackmagic Design o Sony o altro? Perché secondo me, per quello che c'è nel mercato attualmente a livello di prezzi, questa è quella che effettivamente si avvicinava di più alle mie esigenze. Dopo aver lavorato con le Canon 5D al film 2000 passi, e quindi averci fatto tanta post-produzione, tanta color, tanti effetti speciali, mi sono reso conto di quello che effettivamente mancava in quelle camere, che è questa, ovvero la gamma dinamica e il RAW. Avendo questi due parametri in più, le immagini diventano molto più lavorabili, molto ma molto di più. E ovviamente qua stiamo registrando in 4K, mentre lì eravamo in un Full HD 17.9. Quindi cosa chiedere di più? È vero, qualche altra marca di camere fa le camere appunto a prezzo minore, ti danno più o meno le stesse cose, anche se a livello qualitativo rispetto a questa sono leggermente più basse. Ma arrivata a questo punto a noi ci serviva quel salto di qualità, e quindi questo è un ottimo salto di qualità rispetto magari a prendere ancora un gradino in più, ancora un passetto avanti. O lo facevamo bene o non lo facevamo per niente. Questa è già una camera cinema, cioè questa già la puoi usare per qualsiasi piccola media e anche grande produzione, perché se du mi la passi se abbiamo fatto con quelle, con questa già puoi fare tantissimo, puoi fare oro. E con altre camere piccole ci saremmo trovati le stesse problematiche che avremmo avuto con appunto le 5D. D'altronde vengo da ecosistema Canon da una vita, lo conosco come le mie tasche, per cui è stato anche molto facile approcciarmici e devo dire che non sto avendo nessun tipo di problema, ma vi faccio vedere nel frattempo anche qualche piccolo frame che ho fatto in questi giorni di una produzione che stiamo preparando. Giusto qualcosa, non vi posso spoilerare nulla di più. Bella, bella veramente. Se volete fatto un video dedicato su questa camera, scrivete in descrizione le vostre domande e io cercherò di fare appunto questo video, cercando di darvi le mie impressioni personali, perché non mi baso mai sui dati tecnici, ma mi baso più sulle sensazioni. Non mi interessa tanto il tecnicismo, per quelli ci sono le schede tecniche che rispondono già a tutto. Devo dire che è stato un percorso difficile. Ovviamente non è che uno non poteva comprarla anche prima, potevamo comprarla come potremmo magari gestire meglio le cose, però il nostro budget era sempre limitato e quando noi pensiamo a un progetto lo dobbiamo pensare in ogni suo aspetto. Non possiamo spendere più budget del dovuto per la camera e poi ci manca peraltro. Per esempio in 2000 passi abbiamo speso quel tot per avere camera, obiettivi, attrezzatura, audio e tutto quanto, quindi era budgetizzato, più di lì non potevamo andare, ne abbiamo prese due per tagliare i tempi, per girare in maniera diciamo un po' più veloce e devo dire che effettivamente è stato ottimo, cosa che adesso non posso fare perché adesso avendo solamente una camera devo tagliare i tempi direttamente in ripresa, mentre lì bene o male già mi gestivo campo e contro campo, ho due primi piani insieme e riuscivo a gestirmeli bene. Qua ovviamente non lo posso fare però in compenso ho un'ottimissima qualità, veramente ottimissima. Cosa che non mi viene neanche di dire, guarda prenderei una camera superiore, attualmente vi giuro che non ne sento più la necessità, è come se avessi raggiunto uno step abbastanza importante, poi magari non sarà così, poi magari mi verrà la voglia di prendere una Red, una Harry, tutto quello che volete, però vi giuro che per il mio percorso, per quello che ho vissuto, adesso non ne sento il bisogno e questa cosa mi tranquillizza e mi rende felice, perché dico minchia finalmente. Questo video è anche un consiglio come tutto il resto, cioè io cerco di farvi vedere come mi sono mosso io per dare la possibilità agli altri di capire dove si trovano loro e quali sono i parametri da scegliere per muoversi in una determinata direzione. Step by step noi ci siamo arrivati, quindi magari anche tu, anche voi potrete trovare la vostra via, capire bene come arrivare a un punto abbastanza importante, come una buona camera, partendo da una cosa piccolissima. Un saluto a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video per approfondimenti e anche per eventuali aggiunte e curiosità. Ciao!